No, adesso fin quando siamo a Perugia facciamo più che altro lavoro fisico, test, poi cominciamo a conoscere i ragazzi e poi quando andiamo su incominciamo a lavorare sodo. Sì, vabbè, ma dove c'è entusiasmo si crea anche emozione, quindi è una cosa normale. Siamo qui per fare il massimo, per lavorare bene e speriamo di fare un'annata positiva. Il nostro primo obiettivo è cercare di portare tanta gente allo stadio perché è la conseguenza del fatto che la squadra magari diverte e i tifosi vengono volentieri. Quindi questo è il primo in assoluto obiettivo che ci poniamo. Un conto è conoscerli dall'esterno, i giocatori, un conto è conoscerli sul campo per vedere effettivamente le potenzialità e quanto si possono adattare alle idee di gioco. Poi vedremo, faremo delle valutazioni. Sono abituato a non esprimere giudizi prima di conoscere bene. Le operazioni fino adesso che ha fatto la società, si sono assolutamente condivise e quindi stiamo raggiungendo pian piano gli obiettivi che ci siamo previsti. Ecco, ha parlato di idee di gioco, sarà veramente 4-3-2-1? Vedremo, conosciamo i giocatori, vediamo se si adattano bene a questa tipologia di gioco e poi si vedrà. A me piace giocare in undici, poi per come si mettono in campo l'importante è ottenere risultati. E vince. Per come si mettono in campo è solo un dettaglio, poi si muovono, come diceva Little, io li metto in campo e poi si muovono. Se lo muove bene. Grazie. Grazie.